La birra che assaggerò oggi è questa Sur Amarillo di Tohold. Vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Allora, il birrificio è Tohold, siamo in Danimarca, questa appunto è la Sur Amarillo di Tohold. Come stile è una Wild Ale, a volte indicata anche come Sour. Il grado alcolico di questa birra è 7,5 gradi. Il costo di questa birra l'ho acquistata online e il prezzo, vedo ora su Cantina della Birra, è 5,10 euro per la bottiglia da 33 cl. Il bicchiere consigliato per questa birra è, direi in generale, bicchieri a chiudere, in questo caso utilizzerò uno snifter. E non si tratta di un primo assaggio, una birra che appunto conosco già. Due parole velocissime su questo birrificio, Tohold, birrificio danese, la cui storia peraltro è molto legata all'altro famosissimo birrificio danese che è Mick Keller, proprio perché i due ragazzi fondatori di Tohold erano allievi alla scuola superiore di Mickel Bjorg, se non ricordo male si chiamava, che è appunto il fondatore del birrificio Mick Keller, che era l'insegnante di matematica dei due ragazzi che poi hanno fondato Tohold. Condividevano con il loro professore la passione per l'home brewing, quindi la birra fatta in casa, tanto che su qualche blog, se non ricordo male, avevo letto che la leggenda vuole che abbiano anche fatto esperimenti di home brewing nella mensa scolastica. Fatto sa che il professore a un certo punto si è licenziato dal suo lavoro di insegnante, appunto, si è messo a fare birra e qualche anno dopo gli stessi due allievi hanno fondato la loro birr firm che è Tohold. Tohold appunto era anzi una birr firm, significa che quindi non hanno un impianto di produzione loro, ma nuleggiano praticamente un impianto di produzione in un altro birrificio in Belgio, non ricordo quale, ma andavano in Belgio a produrre queste birre. Di conseguenza Tohold si occupa di preparare la ricetta prima, quindi immaginarsi la birra con certe caratteristiche, scrivere questa ricetta, poi la producono in un birrificio che noleggiano, per così dire, e dopodiché si occupano di tutto ciò che è il marketing e la vendita di queste birre qua. Lo stesso Micheller nacque come birr firm, o come a volte indicato anche birrificio fantasma, nel senso che non c'è un impianto di produzione proprio. Ora Micheller è talmente importante, fa volumi talmente elevati, che appunto ha più di un impianto di produzione e diversi locali sparsi per il nord Europa e gli Stati Uniti. La tipologia di questa birra è un po' particolare, perché questa Sour o Wild Ale sono tutte quelle birre indicate come Wild o come Funky, sono birre che guardano molto in direzione di Lambic e di prodotti comunque acidi in generale. Non è una birra a fermentazione spontanea, questo è importante. È una birra in cui ci sono dei saccaromiceti, quindi dei lieviti, che fanno una fermentazione tra virgolette standard, o comunque comune a tutte le altre tipologie di birre non spontanee, dopodiché vengono aggiunti dei lattobacilli, quindi sono dei batteri, quindi non sono lieviti, non sono funghi, non sono eucarioti, ma sono dei procarioti, quindi questi lattobacilli che fanno una fermentazione acidolattica che dà questo caratteristico sapore acido a questa birra. Anche nei Lambic si trova un sapore acido, dato anche in quel caso della presenza di batteri, che però non vengono inoculati volutamente, ma fa parte del magico processo della fermentazione spontanea. In generale, per quanto riguarda le acidità delle birre, ci sono due grandi categorie, due macro-categorie. C'è l'acidità data dai lattobacilli, quindi un'acidità lattica, e poi c'è l'acidità data dagli acetobacter, sono altri batteri, quindi anche in questo caso progarioti, non sono funghi, sono batteri, ed è lo stesso gruppo di batteri che trasforma il vino in aceto, per intenderci. E quindi le due grosse differenze sono acidità lattica e acidità acetica. La lattica è l'acidità, per intenderci, tipica dello yogurt neutro, quello non alla frutta, quel tipo di acido, e l'acidità acetica è quella dell'aceto. In questo caso sappiamo già che sono lattobacilli, quindi ci aspetteremo un certo tipo di acidità. Altra cosa, suramariglio, perché il nome amariglio si riferisce a un tipo di luppolo, che appunto è la cultivare, che si chiama amariglio, questa varietà, è in dry hopping, single hop. Dry hopping indica che è stato, la luppolatura viene fatta mettendo il luppolo in un contenitore, in un filtro, in un calzino, per così dire, simile a quello in cui mettiamo, per esempio, la camomilla o il tè, che quindi viene immerso nel fermentatore e poi rimosso. Questo è il dry hopping. Il single hop significa che c'è un solo luppolo per fare questa birra, che è una cosa un po' particolare, perché da diversi anni c'è la tendenza a mettere sempre più di un luppolo e spesso la produzione di birre, anche non le birre molto luppolate, anche delle season belghe, hanno più di un luppolo che viene messo a tempi diversi, solitamente un luppolo che da un fondo amaricante viene messo per molto tempo, un'ora e mezza, due ore, dipende, in infusione. I luppoli invece che danno tutti i toni più floreali, più fruttati, eccetera, più erbaci, più resinosi, vengono messi solitamente poco prima della fine, quindi hanno un'infusione più breve. dipende un po' sempre dalla ricetta, dallo stile, eccetera. Però si usa sempre più di una varietà di luppoli. In questo caso c'è una sola varietà di luppolo. È un luppolo con un profumo talmente prepotente che probabilmente ne basterà uno per creare già un bouquet sufficientemente complesso. Direi che ho parlato già abbastanza per introdurre questa birra e possiamo quindi assaggiarla. Ah, non ho descritto la bottiglia. Mi è venuto in mente in questo momento. Allora, il tappo è semplice, completamente griso, viene riportata la data di scadenza e nient'altro. La bottiglia si presenta con una doppia etichetta, superiore con semplicemente lo stesso motivo che poi c'è sull'etichetta inferiore. Anzi, scusate, tripla etichetta, perché il retro è scollegato dall'etichetta frontale. Quindi riporta lo stesso motivo. Questo motivo qui sono sempre molto, molto differenti tra loro le etichette di Tual, anche nello stile grafico. al di là del logo. In questo caso c'è un'etichetta molto minimal, molto immagine di Tumblr. Si vede una silhouette di alcuni alberi a quella che potrebbe essere l'alba, con questi colori, con un filtro proprio un po' alla Instagram, con questi colori molto contrastati. Ci starebbe bene qui una frase squallida, appunto, da Tumblr, sull'amore, l'amicizia, cose del genere. In realtà c'è solo scritto suramarillo, in questo font molto semplice, molto delicato, sans serif, con una semplice linea. E il logo di Tual, che sono due bottiglie e due luppoli sotto le lettere di Tual. Due bottiglie perché Tual è proprio tradotto come due birre in danese. Gli ingredienti, scritto solo in inglese e, immagino, danese, dai numeri di O diverse, tra barrate e puntate, che leggo, immagino sia danese. Comunque, una pale ale, sour, dice, con dry oped, amarillo e così via. Niente di indicazioni particolari, però sono, mi piacciono sempre molto le etichette di Tual, sono sempre abbastanza ricercate come grafica. Ok, mi fermo perché ce n'è già un po' di deposito. Allora, ah, una parola giusta, la data di scadenza, vedo ora, questa è una birra che ho qui da un po' di tempo, perché ne avevo acquistate più di una, e mi rimaneva l'ultima, ho pensato di utilizzarla per fare questo video. E infatti la data di scadenza è a fine anno, fine 2018. Non essendo una birra con lupolature particolarmente estreme, o almeno non ai livelli di certi IPA, credo non sia fondamentale il fatto che la stiamo bevendo vicini alla data di scadenza, anche perché stanno già arrivando fortissimi i profumi da qui. La birra, allora, ha una bella schiuma, un bel cappello di schiuma compatto, bianco, abbastanza fine, abbastanza irregolare. Il colore della birra è un, direi, un ambrato abbastanza brillante con la luce. Si vede già una buona carbonazione, abbastanza limpida. Vediamo un po' il naso. Allora, anche qui al naso ci sono due grosse categorie di descrittori aromatici. C'è una parte legata agli agrumi, che è quella legata ovviamente a questo tipo di lupolo, che va verso gli agrumi, e la frutta tropicale. In questo caso non saprei essere molto molto preciso, però se avete presente i profumi tipici dei succhi di frutta a gusto tropicale, quel generico gusto tropicale dei succhi di frutta, ecco il profumo va in quella direzione, con presenza ovviamente si sentono anche degli agrumi. E questo è il lupolo amarillo che ha questi profumi molto particolari. C'è però già, si sente anche, la parte legata all'acido dei lattobacilli. è un profumo un po' particolare, ma se già vi è capitato di assaggiare birre acide in generale, non lo cita un pochino a riconoscere, perché va verso il formaggio proprio. È un tipo di profumo che ricorda quello. Qui un pochino si sente. Sì, molto molto poco si sente, perché comunque questo lupo è davvero molto molto prepotente, copre quasi tutto il resto. Comunque vediamo come è in bocca. È in bocca particolarissima. ha tanto tanto della birra acida. Non è la prima cosa che arriva, però. C'è un'apertura leggermente maltata, che ricorda tantissimo le classiche pale ale inglesi, quelle birre tipiche appunto della tradizionale anglosassone. Questo inizio di malto così, tutto sommato delicato e non eccessivamente dolce, è subito, ma proprio subito, spazzato via da un'onda acida che arriva e tuttora resta. Sento ancora questa persistenza acida in bocca. Diciamo che il dolce c'è, il dolce del malto, molto molto tranquillo. Subito appunto arriva poi tutto l'acido, molto più importante la componente acida. c'è una leggera componente anche amara, amaricante del luppolo, ma resta leggera e comunque non riesce a battere per intensità sicuramente l'acido. Diciamo che le tre componenti che sentite in bocca sono dolce, acido, amaro, in ordine diciamo cronologico di sensazione, ma per quanto riguarda l'intensità, acido sicuramente è al primo posto e molto molto più in fondo, se dovessimo fare una classifica di intensità, sì abbiamo anche un'apertura leggermente dolce e un finale amaricante. C'è da dire che questa birra così acida ha ovviamente tutte le caratteristiche tipiche delle birre acide, prima e soprattutto la freschezza e soprattutto il fatto che è una birra dissetante ed è uno dei motivi per cui questa birra appunto viene spesso indicata come birra particolarmente adatta sia per il periodo estivo sia in generale appunto come birra beverina e dissetante. È comunque un'acidità non indifferente, quindi se non siete abituati a bere birre acide potrebbe spiazzarvi leggermente questo acido così importante. L'unica nota che mi sento di fare una birra che resta una birra fantastica è il fatto che essendo una wild ale io mi aspetto tutto un certo tipo soprattutto di bouquet al naso legato ai batteri, in questo caso ai lattobacilli che comunque non trovo né al naso né in bocca al di là dell'acido proprio perché questo solupolo è così prepotente che copre tutto il resto. Quindi al naso ho poco di lattico e anche in bocca sul retroolfatto quindi ciò che mi resta dopo la bevuta in un lambic mi aspetto e mi ritrovo in bocca poi dopo tutto questo lattico o acetico in base al tipo di fermentazione qui non resta quasi niente. C'è un forte acido ma tutto sommato il resto è solo soltanto l'uppolo quindi sembrerebbe quasi una via di mezzo tra una pale ale o una IPA acida però. È particolare, è una buona birra è particolare io personalmente mi aspettavo un po' più soprattutto al naso di tutto ciò che riguarda appunto i lattobacilli. Detto ciò è un'ottima birra può essere anche questo uno dei tanti modi per avvicinarsi alle birre acide non forse la birra che vi consiglierei di bere se non avete mai bevuto nulla di acido sia semplicemente per il fatto che comunque sono birre che a meno di 5 euro la bottiglia è difficile recuperare e quindi a questo punto allora vado su una Lindemans Pond per esempio se non ho mai bevuto acido allora tento l'approccio da quella direzione sia perché appunto resta forse una birra che è molto buona ma è pensata per un pubblico molto modaiolo che nel momento in cui vanno o forse andavano perché già un po' sta calando la moda delle birre funky allora uniamo le IPA uniamo le acide e otteniamo queste birre qui un po' particolari che dire questa è però appunto una mia opinione personale se avete già bevuto altre birre acide non spontanee fatemi sapere cosa ne pensate per oggi direi che è tutto scal è stato un po' particolari